Ciao, io sono Tommaso e oggi impariamo ad archiviare e a salvare i nostri file e progetti su DaVinci Resolve. Apriamo un qualsiasi progetto e vediamo di impostare innanzitutto i salvataggi correttamente. Ci spostiamo immediatamente sul menu di DaVinci Resolve qui in alto, clicchiamo su Preferences e andiamo a vedere dove andare a salvare i nostri file. Nella sezione Media Storage abbiamo la possibilità di scegliere un punto dove andare a salvare, la Media Storage Location praticamente. In questo caso io utilizzo un harddisk esterno dedicato solo ed esclusivamente ai progetti di DaVinci Resolve. Possiamo andare ad aggiungere o a rimuovere eventuali altri volumi senza nessun problema. Ma non ci interessa questo attualmente, voglio farvi vedere dove vengono salvati e come effettuare i vari salvataggi dei nostri progetti e dei nostri eventi. Andiamo su User, qui in alto, sulla destra, e ci spostiamo nella sezione Project Save and Load. Eccoci qua. All'interno di Project Save and Load questi sono i settaggi che io utilizzo per i salvataggi automatici della mia timeline. Quindi il mio progetto viene salvato in automatico ogni volta grazie a questa spunta che dice Live Save, quindi salvataggio appunto in Live. Funziona molto bene tra l'altro dal 14 in poi, da DaVinci Resolve 14 in poi. Adesso stiamo lavorando sul 16 ma anche sul 15 va benissimo. E creo dei Project Backups. Li faccio ogni 20 minuti, di modo che se qualcosa va storto anche con il Live Save, posso andare a recuperare in modo abbastanza semplice anche i backup di salvataggio. Dove si trovano i backup di salvataggio? Vedete qui sotto Project Backup Location. Li troviamo qui. In questo caso io li metto sempre all'interno del mio hard disk. E sono all'interno di Backup DVR Resolve Project Backups. In questa maniera ho la certezza di avere i miei backup salvati nell'eventualità ci siano dei problemi. Ok, spostiamoci in un altro pannello per vedere come andare a recuperare invece i vari backup. Perché qui siamo nella sezione Preferences abbiamo detto, no? Mi sposto e vado nella mia sezione Project Manager. Eccoci qua. E come facciamo a salvare un progetto? Quindi a prendercelo e tenerlo per poi portarlo magari, boh, ad esempio su un altro computer. Semplicemente cliccheremo sopra il progetto, pulsante destro e non Save o Save As, ma Export Project. In questo caso guardate che cosa succede. Faccio Export Project. Posso fare anche Export Project with Steels and Luts. Ma noi per il momento facciamo solo esporta il progetto. Lui mi chiederà di salvarlo. In questo caso lo buttiamo sotto Downloads e Minispot Test Export Project. E do Save. Fa il salvataggio, fa l'esportazione. Vi faccio vedere che cosa ha salvato. Lui è andato su Downloads e, eccolo qui, ha salvato un file da 5,4 MB, veramente piccolino. Perché è solo un DaVinci Resolve Project DRP. Quindi se noi non abbiamo i file sorgente, non possiamo utilizzare il nostro progetto. Abbiamo bisogno dell'archivio totale. Quindi o abbiamo tutti i nostri file anche nell'altro computer, i file che poi andremo ad utilizzare per linkarli al progetto stesso, oppure dovremo andare ad esportare anche i file dell'archivio, facendo pulsante destro e non Export Project, ma Export Project Archive. In questo caso Minispot Export Archive. Gli diamo il nostro, sotto Download, gli diamo il nostro Save. E qui ci farà delle altre domande. Ci chiederà innanzitutto dove mettere gli archivi. Noi gli diremo di utilizzare magari anche il Render Cache e gli Optimized Media, perché vogliamo esportare veramente tutto. Se invece non andiamo a fleggare questi due, dovremo andare a renderizzare nuovamente il progetto una volta portato in un'altra macchina. In questo caso lo faccio con, ma vedrete che ci metterà veramente tantissimo tempo per l'esportazione. Do già l'OK e comincia a copiare i media files, vedete? Quindi ora ci metterà una vita di tempo, perché il progetto è enorme, è lunghissimo. Difatti siamo appena all'1%, 2%. Una volta che andrà ad esportare il nostro file, sarà semplicissimo poter andare a recuperarlo. Vi faccio vedere come. Cliccando in un qualsiasi punto della nostra finestra del Project Manager, pulsante destro, se vogliamo Restore Project Archive o Import Project. Quindi Import Project era il primo, il file DRP. Andremo qui e andremo a recuperare il nostro DRP da solo, vedete? Vado a dargli Open e in automatico lui mi aprirà il Minispot Text Export Project, quello che abbiamo appena fatto. In modo che ho la mia copia. Ovviamente ho la mia copia legata a che cosa? Ai file che sono già all'interno di questo computer. Se mi fossi spostato in un altro computer sarebbe tutto corrotto il file. Quindi questo lo andiamo a cancellare, Delete. Se volessimo invece andare a recuperare l'archivio, basterebbe andare a fare Restore Project Archive. In questo caso gli si darebbe questo file, che è un punto DRA, DaVinci Resolve Archive, non più DaVinci Resolve Project. All'interno del quale ci sono tutti i nostri file. In questo caso gli darò Open ed ecco qui che compare anche il nostro DaVinci Resolve Archive. Delete anche in questo caso perché non mi interessa andare ad utilizzarlo. Se invece volessimo recuperare ad esempio dei backup, eccoli qui, quelli che avevamo salvato precedentemente. Vi ricordate che abbiamo fatto l'impostazione dell'auto backup? Ecco, in questa maniera, torno indietro che così lo vedete meglio, pulsante destro, Project Backups e avremo i nostri backup di salvataggio precedenti. Possiamo vedere la data, in questo caso, che è 2019.05.10 alle ore 10.22 oppure 0.5.9 alle 13.26. Sono gli ultimi giorni in cui ho lavorato a questo progetto, in cui ho aperto questo progetto. E possiamo andare appunto a cliccarci sopra e a ricaricare il nostro backup se avessimo dei problemi. Ma vi garantisco che con l'impostazione che vi ho insegnato prima del Live Save questa cosa non andrete praticamente mai a farla. Ve l'ho mostrata perché mi sembrava corretto anche farvi vedere, diciamo, come andare a recuperare i file di backup. E basta. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, che sia stato utile. Lo aveva richiesto Manuel F, che ringrazio caldamente per avermi dato modo di creare un'altra pillola di DaVinci Resolve. A me non resta che salutarvi. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per vedere tutti i nuovi video che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo corso, date un'occhiata anche al sito www.tomasocodolo.com perché all'interno, nella sezione corsi, troverete l'intero corso di DaVinci Resolve, sia una sezione dedicata ai corsi gratuiti, sia una sezione dedicata a quelli a pagamento. Se avete intenzione di acquistarli, ricordatevi che c'è un codice sconto che è chiedilo a Tommy, tutto attaccato, che dovrete inserire nel momento dell'acquisto. Un saluto a tutti quanti, ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Ciao!